Torneranno domani a casa il casco e il giubbotto dell'ispettore Filippo Raciti che il 2 febbraio del 2007 indossava durante gli scontri qui davanti allo stadio Angelo Massimino durante gli scontri con gli Ultras quando appunto perse la vita. Domani saranno consegnati alla famiglia questi effetti personali, ci sarà una cerimonia alla presenza tra gli altri del capo della segreteria del dipartimento della pubblica sicurezza prefetto Vincenzo Panico che è anche presidente dell'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e anche il questore di Catania Marcello Cardona. Ci saranno anche 30 uomini in rappresentanza di 15 reparti mobile d'Italia che ricorderanno con una cerimonia quella triste giornata che ha cambiato il calcio in Italia.